Sei felice? No. Sei triste? No. Sei? Annoiato. Ti ho visto prima, stavi giocando a LOL, dovresti essere felice. No? Sei triste? No. Non è vero, non sei triste. Non sono le triste, penso, l'ha annoiato. No, 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 già l'ultima volta l'abbiamo fatto questo. Mi metti sotto la musica dei Power Ranger Mystic Force? Grazie. Bravo, sei molto bravo. Hai fatto un sacco di strumenti con due pacchette. Oggi siamo qui perché? Perché siamo tutti bloccati a casa, quindi... Però Bertra, le tue ricerche almeno cancella le... Io ti odio. Guarda che altra roba c'è. Questo è Leo quando lo lascio 5 secondi col mio computer. Dicevamo, allora, peri deformi, quindi... Leo, anche a te sarà capitato di chiedere alle signorine di mandarti tette... Ah, sono loro che le chiedono a me. ...e tette? Posso farle vedere al vicino? È fuori, sul balcone che ci guarda. Vai, fagliele vedere. No, c'è anche la signora, ci sono tutti. Quindi ho deciso di cercare quelli che sono i maestri nel chiedere i nudini alle signorine, che sono... Gli impiedofili. E' vero, se sono molto ine, sono quelli. Eh sì, signorine sì. Signore. Che cosa meglio di... No, questo era molto talebano. Questo non è indiano, quello è Medio Oriente. Devi pensare a parlare un po' più alto, così come gli indiani, allora... Devo alzare il toro di voce e parlare molto velocemente. È molto razzista questo. Abbiamo una selezione di bellissimi messaggi che ci faranno chiedere perché fino ad ora abbiamo provato ad approcciarci come abbia sempre fatto. Cioè, in realtà, non so come tu abbia sempre fatto, però di base. Ehi, ciao. Ho tutti iscritti su Instagram e su YouTube. Uff. Dear, can I say you request? Will you add me? Questo qui è africano. Questo è l'africano. Questo era why are you gay? Dr, can I say you request? Will you add me? Comunque già il fatto che scriva con tutti questi punti, puntini, punti interrogativi. Hi, dear, good morning. Good scritto così è come se scrive good game su LOL quando devi trollare. Good morning, how are you? Dear, can I say you request? Ma perché face l'africano ogni tot righe? Non lo so. Non lo so. You there. Iiii! Cos'è questo iii? Iiii! È l'urlo di dolore perché non lo sta cagando. Hi, you there, sei qui. Cosa pensavi? Ehi, tu cara. Ah, no. Ciao, posso mandarti una richiesta? Mi aggiungi? Buona mattina. Come stai? Posso mandarti una richiesta? Mi aggiungi? Sei lì? Iiii! Doveva fare in fretta perché la 2012 stava per finire il mondo. Ah, pochi mesi. Pochi mesi, sì. Per usare il biscotto. Comunque ricordate ragazzi, santo Dio, Leo, anche tu. Tu quando devi provarci con una ragazza, le scrivi. Se lei non ti risponde, capisci che non è interessata e quindi cosa fai? Vado sotto casa col coltello. No, quello è il passo dopo. In anima simale scrivi altre... Ecco il pene. Sì, molta gente lo fa, effettivamente. Dio santo. Ragazzi, mandare 80 messaggi, uscire il pene, non richiesto, sono tutte cose che non funzionano. Non so perché. Vuoi dirmi che una ragazza che non ti calcola non freme dalla voglia di vedere il tuo organo riproduttivo? C'è. No, purtroppo no. Lo so che è una roba strana, però no. Se non mi risponde, rimando in calzo. Ma sì, no, in realtà ragazzi, non è vero che non vogliono. Tutte le ragazze non aspetta altro che vedere il vostro pene. Ciao amica, buonasera. Come stai? Ehi, posso mandarti la richiesta. Perché questa cosa del posso mandarti la richiesta? Perché non gli accettano le richieste di omestizia. Sì, ma probabilmente l'avrò già mandata 80 volte. Uno di quelli che la manda la toglie, la manda la toglie per farlo. Ragazzi, se arriviamo a 25.000 like, che sono tantini, faccio un profilo di un indiano e andiamo a rompere le palle alle tipe. E se invece arriviamo a 50.000, Berta si fa un intervento estetico e si fa la pelle da indiano e va a rimorchiare le tipe dal vivo. No. Però ai 25.000 like sì. Dai. Questo è un commento a una foto. Capelli bagnati. Foto figa. Che bella foto. N starà per N o per NIG? Leo, in i ultimi due video sei stato razzista con tre diverse etnie e voglio mandare avanti. Guarda che facciamo l'anplay così. Apprezzo che faccio a notare che i capelli siano bagnati. E questo rende una foto bella. Scusa, begli occhi? Bei capelli bagnati? Non bei capelli, capelli bagnati. Sì, capelli bagnati, scusate. È come prendere una foto e dire occhi azzurri. Vestito blu. Che cazzo vuol dire? Giusto sì? Non giusto sì, Leo. Sì? No. Sì. Perché sì? Avete i capelli asciutti secondo te? Ti veresti i capelli bagnati su una foto con i capelli asciutti? Lui è un uomo semplice. Vede le cose come stanno. Con lui sai che ti dirà sempre la verità. Sai che ti guarderà sempre negli occhi e non ti mentirà mai. Hai i capelli bagnati. Lui te lo dice. Ti ne frega il cazzo di quello che la società pensa. Se lui vuol dirti che hai i capelli bagnati hai i capelli bagnati. Perché lui è un uomo vero. Ok. Apprezzo questo tuo slancio emotivo nei suoi confronti. Ehi, please. Siamo amici. Diventiamo. Dovrebbe essere Please let me friend. Lui non è che ha cancellato il corretto la frase. Ha scritto la corretta alla fine. Però prima di averlo mandato. Ehi, ti ho mandato una friend che request. YAR! Ma scusa, non eri indiano? AR! Io sono un pirata. Catch tu bolo. Catch tu bolo. Udi. Ce vuol dire? What's happen to me somethings. Cosa succede, dimmi qualcosa. HAYANA FRIENDSSSSSSSSSSSSS Gli amici degli nazisti. I friend SSSSSSSS Ta-na-na-na-na-na-na Ta-ta. Sarebbe bello una sigla di Friends con un programma dove sono solo indiani. O-chi-o-pi-ti-s-way Dimmi un nome indiano. Ehhh... FRAJAD FRAJAD Befriend, you want me, ok? Hi, chi è? Sarahumad here, sister Bel nome, Saurab Ti conosco? Nope Will tell you everything about me How I got your number, but please with your list and... Patiently Dio mio, sono abbreviazioni che Dio santo Non sono abbreviazioni, sono sgorbi Sono tipo i messaggi quando... Avevamo i messaggi che avevamo un po' di caratteri Ti dirò tutto quanto su di me Ah, ok E di come ho avuto il tuo numero Ma per favore, ascolterai Pazient... Non è pazientemente quella parola, è patiently E dopo questo, se capirai che sono non genuino, tipo Allora poi non ti pingherò mai più Sta giocando ad Apex Io sono ancora fermo alla prima frase Will tell you everything about me And how I got your number But please will you listen patiently Patiently mi piace tantissimo È una parola che non ha assolutamente senso nel mondo Comunque pensa, tu sei lì alle 5 del pomeriggio Stai facendo i cazzi tuoi Magari studi, magari guardi un film Hi Vedi questa foto con questo indiano che ho messo così Eh, sì, chi è? Sono il Saraub Saurab In più vedo Saraub Saurab Sì, lo so che è Saurab Però mi piace di più chiamarlo Saraub Scusa, eh Cioè, non è che puoi decidere il suo nome? Sì, io da oggi ti chiamo Lenardora Tu non puoi farci niente Bertrando No, Bertrardo Riccando Bertrando Bertrardo Riccando Hi How was today Hello Sembra molto cambiata sta cosa La presione è bene Che cazzo vuol dire Um Saranno tutte abbreviazioni Non puoi Ah, Google Google Mudato Mudato Lattice Lattice Sta parlando di preservativi forse Che tra le mie frasi da tradurre c'è mamma e papà hanno un uomo e bè? Non se ne fanno più in dettagli in tedesco Leo, quando ci devi dire Hi Hi 29 agosto Hi Il 15 ottobre Hi Perché ragazzi Se al primo hi non funziona Al secondo hi non succede niente Dove raggiungere di più Al terzo diventa un Hi È tipo quei fan che continuano a bloccare su Instagram Che ti scrivono ciao tutti i giorni Esatto Li blocco tutti così, eh Oh, really Full to Bangoli look Fab pics Hello Ah, è vero c'è anche un Hello È qualcosa di censurato Sì, spero Non lo so Cosa può essere? Cosa può essere di censurato un emoticon? Full to Bangoli look Che cosa vuol dire full to Bangoli? Che cazzo ne so Non penso significhi niente Look è fortuna E se invece ci metti un 4316 dopo Cosa diventa? Guarda che belle le immagini profilo degli indiani però La vedi che bella sotto il numerino Con l'effetto orribile Mamma mia Arte Arte Altro che la Mona Lisa Che my friendship with you? Penso che sia un po' Posso amiciziare con te, tipo Traducendo verrebbe fuori una roba del genere Posso amiciziare con te? Sembrano un po' quei messaggi sgrammaticati Che mandavi anni e anni fa Sugli MMORPG Ah quando dovevi coniugare le frasi inglesi in italiano Avevo 12 anni Non sapevo l'inglese Dovevo magari scrivere a un tipo Ehi passami quell'item E venivano fuori delle frasi Al limite dell'inverosimile Hello and good day to you I was searching for an old friend when I bombed into your profile Ok I must say you look very pretty So decide to say hi Feel free to drop a notte T-set time night Feel free to drop a notte I bombed into your profile vuol dire Ho bombardato nel tuo profilio Ho capito cosa intende Anch'io Ti ho dato nel suo Proprio cattivo Che comunque suona male Devo dire che è sempre molto carina Questo è il solito concetto Che se tu vai da una e le fai i complimenti Lei sarà sicuramente super felice Sì perché nessuno le ha mai detto in me Ma soprattutto Tutti vogliono la tua opinione Per strada mi raccomando Se vedete una che vi piace Fischiatele E mentre il video di Luis Oh 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 Esatto Quello è uguale Se voi avete la ragazza per stare Non posso con te detto di non mettere le mani in bocca Ehi You look so fab Can I make a portrait of you? Sembrano i fan quando si chiede se posso farci le fan art Falla Non posso dirti no Però il bello è che qua non può rispondere alla conversazione L'ha fatto la domanda e poi l'ha bloccata Giusto così non può dire di no E se chi taccia consente Chi taccia consente Mi hai detto ti dipingerò come una delle mie ragazze francesi No indiane in sto caso Hai hai Però con la Y non fa molto inquietudio Ehi hai Vi hai Can vi No E' inteso come we Possiamo essere amici Rispondimi Do reply I wanna be your bro Voglio essere il tuo bro Non so perché Vuole essere tuo fratellone No è bro nel senso di Secondo me vuole essere il suo fratellone Step brother Incest Non so perché ho sentito questa cosa Dopo quattro giorni ha riscritto Ehi Cosa ne pensi di diventare amici? Perché sembrava il genere Sì ma what's there Non vuol dire niente Rispondi Sto aspettando una tua risposta favorevole Ok Sembra una mail commerciale In attesa di una vostra In attesa di una vostra gentile riscontro Cordialmente Ho una poesia Una poesia Di Heclarvia Hi Tutti li stanno con hi I have seen angels In the sky I have seen snowfall in July I have seen things you only imagine to see or to do I still haven't seen anything sweater than you Oh mio dio che cringe Hey there Can you introduce yourself Wanna To be friends Please send help Hello I have mandato Please help me Sarà una richiesta d'aiuto Lo stanno andrando in una cantina Ora leggi le prime lettere della cosa Please send help Ora leggi le prime lettere della cosa Hi Hi E' tutto collegato Quindi adesso manderò un messaggio A una tipa Oh mi è arrivato un messaggio Non è vero Hello Hello friend Do you guardare Twitch? No Why? Because se hai Amazon Prime Hai iscrizione gratuita Dove? Al mio canale Ma noi guardare Twitch Tu guardare Twitch da adesso? Non so guardare Twitch Se guardi Twitch ti mando Bob e Vegana Ok io guardare Twitch Submatevi il mio canale per Bob e Vegana